All'apparenza due furgoni che trasportavano alimentari, ma dentro c'era molto di più giocattoli di note marche, contraffatti e pronti per essere messi sul mercato. E la scoperta della Guardia di Finanza, della Compagnia di Gallipoli, che ha portato alla luce un'importante rete di commercio illegale di giocattoli ed anche di fuochi d'artificio nel Basso Salento. Due furgoni finiti sotto l'attenzione delle fiamme gialle provenienti da Napoli e intercettati all'ingresso di Gallipoli. All'interno c'erano giocattoli con noti brand internazionali. Nonostante fossero nascosti da alcuni prodotti alimentari, non sono sfuggiti ai finanzieri. La successiva attività investigativa ha permesso di arrivare alle attività commerciali a cui erano destinati i giocattoli in diverse località, Gallipoli, Nardò, San Nicola e Lezio. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 48 mila giocattoli contraffatti e quindi privi dei requisiti di sicurezza ed anche 77 mila pezzi di fuochi d'artificio, presumibilmente illegali per un totale di tre quintali. 15 persone, tutte di nazionalità italiana, sono state segnalate all'autorità giudiziaria competente. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!